Ok, benvenuti su Radio Design, siamo in questa primissima puntata di Spazio Off, così abbiamo chiamato questo podcast, che parla di cose che vanno oltre il design. Oggi parliamo di musica, siamo con i ragazzi dell'associazione Dore Milna, siamo con Andrea, Gabriele, Davide e Daniele. Salutate ragazzi. Ciao. Vedi, c'è stata abbastanza emozione, sono abbastanza tesi, ma ce la possiamo fare. Allora ragazzi, innanzitutto qualcuno di voi presenti un attimo l'associazione e cosa fa questa associazione? Estraimo un bigliettino. Dore Milna è un'associazione di promozione sociale e in realtà esiste nella sua forma più embrionale dalla fine degli anni 90, credo. Madonna. E voi com'è che siete rimasti così giovani dagli anni 90. Esatto, proprio perché noi siamo arrivati anni dopo. Ok. Però facevamo tutti primo, barra, secondo, superiore quando ci siamo avvicinati a Dore Milna come studenti, come allievi di un corso di musica. Ok. Lui ha fatto batteria, io chitarra, lui chitarra e anche lui batteria, quindi batteristi e chitarristi. E poi da lì siamo rimasti e abbiamo praticamente utilizzato quell'associazione anche per promuovere altre attività oltre ai normali corsi di musica. Sì. Negli ultimi quattro anni in particolare si è concretizzato il Festival Humus. Ok. Che organizziamo a Monte del Lago su una spiaggia ed è un festival che accoglie al suo interno band indipendenti. Sì. Musica emergente, principalmente proveniente da Perugia ma anche da fuori. E nella sua seconda edizione ha addirittura ospitato Paolo Benvenu. Ok. Che era l'headliner di quell'edizione. Sì. E il 16 giugno scorso c'è stata la quarta e ultima edizione che è stata anche la più diciamo fortunata a livello di presenze durante il Festival. Ok. Quindi dicevamo l'associazione sostanzialmente mi avete detto prima quando parlavamo che è uno studio di registrazione. giusto? Sì. Anche sa le prove. Sì. E poi principalmente fa anche diciamo formazione. Sì. E se non sbaglio qualcuno di voi insegna? Sì. Noi due. Sì. Io ho il corso di musica d'insieme che è dove i ragazzi che fanno ognuno studia il suo strumento si ritrovano insomma suonare tutti insieme a preparare dei pezzi poi per il saggio che sarà uno a poco prima di Natale intorno al 22-23 dicembre e l'altro saggio di chiusura diciamo dell'associazione delle elezioni che è generalmente a giugno, fine giugno è stato quest'anno. Ah. Cioè il 23 dicembre quindi praticamente quando quelli stanno mangiando come... Sì esatto. Arrivano tutti belli grassi e devono sostenere la prova. Sì. Quanto sei cattivo nelle votazioni? No. Zero. Ecco questo è buono potete iscrivervi e sarà molto semplice superare l'esame. Invece tu cosa insegni? Io musica elettronica. Ah figo. È un corso che è partito da quest'anno. Una degli altri responsabili di questa radio è Rossella Biaggi che qualcuno forse conosce che sta proprio studiando musica elettronica al conservatorio. Io non ci capisco una mazza vedo anche delle formule. È una cosa veramente incredibile. Molto complicata. Come è nata l'idea del festival? Cioè è nata da voi o è qualcuno che l'aveva già messa in piedi e voi poi l'avete ereditata? Beh no è nata da noi proprio. Il comitato operativo che appunto è un nucleo degli associati di cui tutti e quattro facciamo parte più altre sei persone in circa siamo sì una decina. Siete una decina di persone. Sì che da quattro anni appunto si impegnano per organizzare questo festival. È nato come una compilation di gruppi Umbri che abbiamo registrato nei vostri studi nel nostro studio Aldoro e Milla e poi da quest'idea della compilation è nata quella di organizzare un concerto con i gruppi che avevano registrato. E da là poi è nato un appuntamento per adesso fisso. Insomma per questi quattro anni è stato sempre fisso. State già pensando qualche nome per l'anno prossimo? È troppo presto troppo presto. Com'è? È sempre gratuito o ci sono alcuni concerti a pagamento? È sempre gratuito. Si svolge su una giornata solamente. Vi ho detto che la location è fighissima. La location sì è una spiaggia a Monte del Lago, un magione bellissima perché c'è un prato enorme, riva al lago quindi è uno spettacolo. Figo figo. A livello di comunicazione è che che se ne occupa? Perché visto che facciamo qui comunicazione è interessante questa cosa. Chi è che fa la comunicazione dell'evento? Attenzione eccolo. Introduciamolo. Vai vai vieni vieni non essere timido. Io sono Daniele. Ok. Come la gestisci la comunicazione? Diciamo che non sono da solo. Ok. Siamo un'altra ragazza che quest'anno ci siamo occupati della diciamo la promozione. Devo dire che quest'anno è stato avuto molto successo. Come gestite i canali? Usate i social media come al solito oppure puntate più sul sito? Sì principalmente abbiamo utilizzato Facebook, Instagram e poi diciamo i mezzi tradizionali come locandine, 6x3, manifesti vari. Ah quindi insomma anche i 6x3 che sembra una cosa un po' da anziane ma in realtà anche 4x3. Sì perché comunque alla fine danno realtà a una cosa che sta su un computer o sul telefono. No questa è una cosa che mi dicono. Te danno la conferma che quella cosa esiste. Sì io insegno web marketing e dovrei dire sempre che i 6x3 fanno schifo giustamente però potrebbero uccidermi gli altri professori che effettivamente poi i 6x3 poi qui sono tutti grafici quindi potrebbero odiarmi da inizio alla fine. No ma sono d'accordissimo perché alcuni eventi diciamo che sono locali e diciamo puntano anche a influenzare un pochino il pubblico locale hanno bisogno di delle affissioni e quant'altro. E a livello grafico cioè com'è il concept, l'idea, non so se ci puoi aggiungere qualcos'altro. Il nostro grafico ufficiale è il signor Gabriele Berrioli. Abbiamo qui il grafico, attenzione. Microfono se non si sente niente? No, non è esatto. In realtà ci occupiamo un pochino tutti di grafica ma il concept che ha accompagnato le locandine delle quattro edizioni è rimasto sempre lo stesso e è una foto di una persona di spalle alle prese con vari tipi di strumenti musicali in un ambiente più o meno naturale. Ok. Ad esempio durante la prima edizione c'era una foto fatta a lui che teneva in mano due bacchette sopra a uno specchio d'acqua. Sì. E anche abbiamo ripetuto questo concetto tutti gli anni. Sì. Quindi ringraziamento al fotografo che ci è sempre stato accanto che è il signor Daniele Toccacielo. C'è anche un nome molto evocativo Toccacielo. Ci piace? Sì. Quindi ecco. Possiamo conoscere anche i segreti tipo a quanto date al budget per la comunicazione? Quanto spendete? Fate campagne advertising su Facebook? Qual è la cosa che ha funzionato di più negli anni? Che vi ha dato più riscontro? Adesso faccio domande troppo tecniche forse. Ma in realtà da quest'anno abbiamo cominciato a utilizzare di più i social media quindi quest'anno è stato il primo è stato un esperimento fondamentalmente ma è andato a buon fine. Ah. Crediamo. Sì. Dai risultati ottenuti sembrerebbe. Beh se ci sono i risultati sì. Allora per chiudere citate un attimo i contanti quindi dell'associazione Doremilla qual è il sito? Il sito è www.doremilla.org. Bene. Finalmente una cosa semplice. Sito nuovo di Zecca. Appena rinnovato. Ok. Abbiamo Facebook Doremilla e Instagram Doremilla. Bene. Molto molto semplice quindi. Sì. Non l'ha preso nessuno questo nome quindi non l'abbiamo dovuto storpiare. Ultima domanda che può essere interessante. Da cosa nasce questo nome? Se lo sapete perché magari non siete stati noi. Il nome è più vecchio di noi. Era il nome del gatto del presidente. Ah ok vedi. L'ero scordato. Questa è una storia fighissima. Attenzione. Bene. Questa è una ottima chiusura. Volete aggiungere qualcosa? Tipo che ne so i corsi quando iniziano. Ah beh sì. Vedi il prof che. No. La data precisa non la so. Però più o meno ecco verso metà settembre più o meno con con l'inizio anche della scuola riniziano i corsi. Quindi i corsi sono su elettronica abbiamo detto giusto? Elettronica, batteria, basso, chitarra, voce, pianoforte, tastiere, sassofono, propedeutica musicale per i più piccoli, per i bambini e corso di musica d'insieme. Ah che fai te sostanzialmente. Faccio io insieme a altri due insegnanti che sono Matteo Parretta e Lorenzo Biscarini. Che a questo punto salutiamo. Lorenzo Biscarini non è nuovo per me come nome. È un pianista. L'avrò visto in giro da qualche parte della città della Pieve forse probabilmente. Non lo so. Non lo so. Però lo conosco credo. Bene. Allora è stato molto interessante. Volete aggiungere un'ultima cosa? Attenzione. So che qui ci sono dei musicisti. Nessuno si è fatto autopromozione Marchette ma voi suonate giusto? Ma tutti suonate. Tutti suonate. Avete tutti una band? Sì. Avete dei concerti? Volete dirci i prossimi concerti? In programma no. Almeno noi. Dopo non solo. Un periodo un po' di stanca. Eh sì. Attenzione. Abbiamo. Non ce l'abbiamo. Va bene. Non ce l'abbiamo. Ok allora grazie mille. A questo punto adesso dovrò chiudere dieci di rette e di registrazioni. Alla prossima puntata di Spazio Off. Ringraziamo ancora Andrea, Gabriele, Davide e Daniele. Un saluto. Grazie a te. Salutiamo tutti quelli che... Ciao. Ciao. Lui è stato vigoroso. Ci hanno guardato. Ci guarderanno se è registrato. Tutto quanto. Tutto registrato. Va bene. Grazie. Ciao. Alla prossima. Ciao.